Quello di tematiche, vabbè, quello libro intelligenti personalmente sono più per libri storici o insomma che mi accrescano a livello proprio culturale. Non sono tanto per i romanzi, non che denigri, ma non sono per me. E a livello invece di formale, cioè della composizione, i libri intelligenti sono quelli che ti facilitano la lettura. Quindi in questo i libri digitali sono perfetti, molto meglio. Io sono lenta a leggere, ma con i libri digitali riesco a leggere molto più velocemente. Quindi sono molto intelligente sotto quel punto di vista.